Sono andato di settembre, mi avevano, praticamente mi hanno mandato via dal Carcagno. E il motivo è che poco tempo prima, nell'agosto del 44, non so se lo sai, mia mamma era l'organizzatrice delle donne, delle donne della difesa della donna, e avevo organizzato le donne, le ragazze di Vado, di Bergeggi, in parte a Noli, e era in comunicazione con quella di Savona, l'hanno scoperta e l'hanno fucilata. Mi è stato comunicato molto tempo dopo, è avvenuto il 24 di agosto, e l'ho saputa forse ai primi di settembre, quando Jim bevi l'acqua, non mi avevano detto niente, poi era venuto su un giovane che aveva detto hanno fucilato una donna Vado, io ho subito capito che era lei, l'ho preso per i bracci e ci ho detto chi era quella donna? Lui mi ha detto ma no, si era accorto che aveva detto troppo. No, ho detto ero una ragazza, così e così, allora nel frattempo Jim bevi l'acqua, Noce e Ernesto, che erano i comandanti, commissario e Ernesto ufficiale delle operazioni, mi hanno chiamato e Leone mi ha detto guarda, non sapevano come dirmi, l'avevano ritirata già una settimana, mi hanno detto guarda, devo comunicare, bisogna farti coraggio perché nella nostra lotta si paga caro e te sei uno di quelli che sei stato colpito durante me. Però io ero, ricordatevi, ero un commissario di squadra insieme a Zaza mi sembra, capisco, dalla quarta squadra. E però ero, ero un ragazzo scherzoso anche, mi piaceva scherzare, sono diventato, potete immaginare, ero diventato senza parola, muro, mi appartavo sempre e meditavo di andare giù a saldare il conto con quell'ufficiale che aveva ucciso mia mamma perché il Plutone di esecuzione si era rifiutato di sparare, si era rifiutato di sparare. E hanno capito che c'era qualcosa che io macchinavo di andare giù, forse ci avrei lasciato anche la pelle, volevo vendicarmi. E hanno capito e hanno colto l'occasione proprio perché si era formato il primo distaccamento lì nella Val Bormida, lì in Esneghi, e hanno approfittato per mandarmi là insieme a altri una trentina di partigiani ed siamo partiti. Da dove eravamo andare là era circa 50 km, ne ho camminato 10 ore abbondanti. E tra l'altro mi avevano dato una cosa particolare, mi avevano consegnato, io ho convinto che mi avessero deciso di mandarmi via, però mi avevano assegnato una missione un po' tutto particolare, mi avevano consegnato una lettera da dare, allora c'era il commissario di quel distaccamento, era Micio, uno slavo, era un uomo di legge anche, che aveva comunicato forse al comando, al comando lì del nostro, che c'era una situazione caotica in quel distaccamento lì, quasi tutti erano di Calizzano, andavano a casa, tornavano dopo diversi giorni, insomma era un po', c'era l'anarchia, no? E mi avevano dato questa lettera di presentarla lì a Micio che aveva detto finalmente mettiamo le cose a posto. Difatti in quell'istaccamento lì, grazie all'apporto di tutti noi che eravamo stati al Calcagno, è diventato un distaccamento, un modello. Siamo stati citati più volte all'ordine del giorno, prima alla brigata e poi quando si era formato la divisione, anche alla divisione. Abbiamo fatto dei combattimenti, vale. Ci sarebbe da dire, da parlare fino a domani mattina. Cose veramente… Figurati, eravamo in mezzo ai tedeschi. A Calizzano, a Carincio c'era il comando tedesco della zona del Basso Piemonte, a Loano c'era il comando tedesco dei pressi dei cappuccini che ci siamo andati anche a portare via, ai San Marco lì. Abbiamo fatto dei prigionieri anche lì, vicino ai tedeschi. Era una via di comunicazione molto importante per loro e quindi potete immaginare. Avevamo fatto saltare due ponti, noi dell'Inesneghi, quello del cavallo Scravaione, il torcello, quello del salto del lupo famoso, era un ponte famoso. Ci sono stati dei combattimenti molto duri e abbiamo avuto anche delle belle soddisfazioni in quel periodo lì.